Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laso Antotto e oggi voglio parlare dei David di Donatello e della polemica che si è scatenata nelle ultime ore. Che cos'è successo? Fondamentalmente quest'anno non c'è una gigantesca varietà, ok, nelle candidature, perché sono usciti un po' meno film. Ad esempio, già il fatto che non siano usciti film come Freaks Out e Diabolic, che magari avrebbero potuto costituire delle novità interessanti, si la dice lunga sull'anno che è stato, il 2020, ma è una cosa che sapevamo. Comunque sono stati candidati film di un certo peso, come ad esempio Favolacce, Miss Marx, Volevo Nascondermi e molti altri, ne parleremo tra poco, perché a qualcuno come sono state gestite le candidature non è andata bene e la polemica che si è innescata da una parte ha contribuito a pubblicizzare i David di Donatello, che sono una manifestazione secondo me molto importante per l'Italia, che viene spesso magari considerata niente di che da tanti, ma che in realtà può dare delle discrete soddisfazioni. A onore del Veno negli ultimi anni, secondo me, la considerazione che si ha della manifestazione è leggermente aumentata grazie al web. Io sicuramente farò la live, credo, con Rob per seguirli, però al di là di questo, io sinceramente sono piuttosto curioso di vedere come andrà. Dall'altra sono piuttosto triste, nel senso che queste faccende mi intristiscono. Quando vedo qualcuno che si gioca completamente la dignità, nonostante sia teoricamente un professionista, mi dispiace sempre e mi fa anche un po' incazzare, perché il signor Gabriele Muccino non ci sta. E scrive un tweet su Twitter in cui dice che fondamentalmente è deluso per come sono andate le candidature, che tanto ormai lui sa che la Giulia di Davide non ha più credibilità, e fare il tifo per Michele Ramazzotti e per Claudio Baglioni, che sono le uniche due candidature che il suo film, Gli anni più belli, ha ottenuto miglior attrice e miglior compositore. Ora, sarebbe già abbastanza così per dire, Gabriele, senti dai, vai, perché non so se avete mai visto Gli anni più belli, che è uscito qualche mese fa, ma per quanto mi riguarda è una rottura di palle clamorosa. D'altronde, Gabriele Muccino, a parte qualche film come La ricerca della felicità, Sette anime, e Fathers and Daughters, mi pare si chiamasse quello con Amanda Seyfried e Russell Crowe, i film li fa tutti uguali, ha avuto la sua parentesi americana, che è un po' diversa da quella italiana, però anche lì, se tu vedi quei tre film, sono tre film che hanno storie diverse, ma un'impostazione veramente simile. Perché per quanto riguarda i film che ha sempre fatto in Italia, c'è una ricetta precisa per fare quella tipologia di film. Devi mettere quarantenni insoddisfatti, qualcuno tradisce, gente che urla, la canzone che fa piacere ai boomer sessantenni che guardano i film, e poi c'è un quinto fondamentale elemento, ovvero un finale stucchevole. Deve esserci sempre un finale stucchevole, ok, finito, stucchevole, una cosa del genere. Quindi è una cosa che onestamente mi rende abbastanza triste quando vedo un artista che non ha voglia di rinnovarsi e continua a fare sempre stesso prodotto ancora e ancora e ancora, però finché è contento lui a fare i suoi, mi va un po' meno bene quando mi presenti un film a dir poco mediocre, nel senso più negativo che si può intendere, e ti incazzi pure che non l'abbiano candidato ovunque. Adesso a me va bene tutto, però che tu ti arrabbi, che gli anni più belli non sia stato candidato in tante categorie, mi sembra assurdo, ma poi il bello è che ha rincarato la dose dicendo che lui ha provato a guardare il favolaccio, ma lo deve ancora finire, fa boh, forse sono io che non capisco la grandezza di questo film, forse sono io poco intelligente, eppure io sono uno di quelli che se vede Dogman va poi a ricoprire di complimenti il regista. Ha tirato una frecciata mica da ridere, hanno iniziato giustamente a dire a Gabriele ma che cazzo stai a fa, e allora lui ha iniziato a tirare in ballo la rivalità dei vari grandi, no? Carmelo Bene, Pasolini, io ero lì che dicevo ma che cazzo sentono Carmelo Bene, Pasolini, Fellini, altri registi, altri grandi artisti che ha tirato in ballo, io vi giuro, ero lì che mi grattava la testa e dicevo ma che cazzo sta scrivendo questo? Poi voglio dire ma che ti stai paragonando veramente a un Carmelo Bene, a un Fellini, a un Pasolini, ma che cazzo stai a scrivere, ma cosa stai dicendo? Hanno continuato a incalzarlo e allora lui ha detto beh io lo dico chiaramente questo film non vale un cazzo, e sono stuflo e politicamente corretto perché io voglio poter parlare sportivo quanto Materazzi ai mondiali del 2006, quindi davvero a me va bene tutto, io posso capire la querelle, però Favolacce è un film della Madonna, cioè per me è assurdo anche solo provare a paragonare Gli Anni Più Belli alla fuffa sotto all'unghia dell'alluce di Favolacce, perché dobbiamo essere onesti, Gli Anni Più Belli è un film come se ne trovano mille altri, magari non è orrendo per l'amore del cielo, ma è proprio il classico film che a me fa cascare le pelotas, cioè io proprio mi guardo il film e mi addormento, poi è un modo di dire perché io non mi addormento mai quando guardo un film, però seriamente io capisco il voler ritenere importante il proprio lavoro, e quindi Muccino da questo punto di vista lo capisco, però un po' di sportività, cioè incazzarsi con la giuria dei David per poi andare a criticare uno dei film più candidati mi sembra veramente allucinante, invece di essere contento che finalmente in Italia si fa un film come Favolacce che si aggancia alla tendenza del dramma italiano, sovvertendolo completamente con una regia pazzesca, diversissima dal solito, addirittura una scena che è stata scritta, perché il film è stato scritto 13 anni prima, che è identica ai Redditori, io ho parlato con Fabio Di Nucenzo e ho detto no, io non mi sono ispirato, non l'avevo neanche visto Redditori, quindi questi sono due registi giovani che hanno scritto questa sceneggiatura quando avevano 19 anni, l'avranno magari rimaneggiata leggermente, ma nell'intervista che avevo fatto loro hanno detto che neanche l'avrà rimaneggiata tanto, quindi io sono qui che dico ma com'è possibile sta cosa? Cioè ma veramente, tu sei talmente deluso per il fatto che non ti abbiano candidato che devi andare a buttare merda sul lavoro di un altro, ma come ti permetti? Cioè ma il professionismo dov'è? Cioè nella tua delusione la cosa più logica secondo te da fare è andare a buttare merda sul film veratamente per poi incazzarti quando ti fanno notare che questo atteggiamento è assolutamente sbagliato e allora proprio fuori dai denti dici il film non vale un cazzo. Ma perché vale il tuo? Vuoi dirmi che gli anni più belli vale qualcosa rispetto a qualcosa in più di favolacce? Ma non scherziamo, cioè il gusto personale è un conto, l'obiettività è un altro. Cioè favolacce a una regia, uno storytelling e personaggi che prendono tutto quello che è gli anni più belli a schiaffi, così proprio vogliamo fare un paragone. Secondo me non ci sarebbe neanche da fare un paragone. Una persona assennata non si metterebbe neanche a provare a paragonare i due film, ma vogliamo farlo benissimo. Gli anni più belli è un film, noioso, con i soliti cliché. È il triangolo, è l'amicizia tradita, è la canzonetta che fa godere i sessantenni in sala. È la solita cazzo di roba che Muccino fa da vent'anni. Ma basta, basta. Si è anche lamentata dal 2003 che non calcolate il mio lavoro. Ma fatti due domande e datti due risposte. Come mai? Cioè saranno loro stronzi o forse forse c'è qualcosa nel modo che hai di fare film che non va? Perché adesso io vi vado a dire quali sono, ok, le candidature. Al miglior film abbiamo Favolacce di Fabio Del Miano d'Innocenzo, Hammamet di Gianni Amedio, Le sorelle Macaluso, Miss Marks e Volevo Nascondermi. Cioè, perdonatemi, ma sono tutti film nettamente superiori agli anni più belli, se li avete visti. Ma nettamente superiori. Ma non ci vuole uno scienziato per capirlo. Cioè ha più ego Muccino di Snyder a questo punto. Snyder è uno che pensa che tutti i suoi film siano dei capo, siano bellissimi, siano arte e quant'altro. E lì ti fa un po' ridere. Però poi lo vedi ed è una persona sincera, una persona... E invece vedi Muccino, lo vedi quando parla, sembra che lui è lui e gli altri non sono un cazzo. Quando poi alla fine ti proponi le solite meglio crate. Questa cosa un po' mi dà fastidio. Poi abbiamo Miglior Regia, no? Perché tu dici, miglior film, ok, Miglior Regia, vediamo se hanno scelto dei filmacci, no? Sono sempre gli stessi. Favolacce, diretto da Dio. Hammamet può essere pesante, verboso, quanto volete, ma è diretto molto bene, con un favino straordinario. Le sorelle Macaluso, non è molto il mio genere, ma ok. Miss Marks e Volevo Nascondermi. Volevo Nascondermi di Giorgio Di Nitti, che trovate su Now, nel catalogo dell'ex Now TV, adesso si chiama Now. È un film della Madonna. Cioè, te credo che me lo canti da una miglior film e miglior regia. Cioè, vabbè, favolacce, io spero vinca tutto. Poi, Miglior Regista Esordiente. Pietro Castellito con i Predatori. Ginevra Elkan con Magari. Mauro Mancini per Non Odiare. Alice Filippi per Sul Più Bello. Luca Medici per Tolo Tolo. Cioè, che è Cozzalone, che era la sua prima regia, non aveva mai diretto un film. Ora, che Castellito e i Predatori siano candidati praticamente solo per il migliore regista esordiente mi fa un po' incazzare. Perché bellissimo favolacce, bellissimo in tutti, ma secondo me i Predatori, quantomeno a livello di candidatura avrebbe dovuto essere presente in tutto. Perché è uno dei migliori... Per me è uno dei migliori film italiani del 2020. Senza dubbio. Per me tra favolacce e i Predatori faccio fatica a decidere quale sia il più bello. Quindi, cioè, capite che non è che... Hanno scelto dei film... Cosa sarà? Scusate, migliore sceneggiatura originale. Cosa sarà? Favolacce, figli, i Predatori, volevo nascondermi. Ora mi dovete spiegare... Ecco, il Predatore è stato candidato a conosceneggiatura e vorrei vedere. Ok, però a me è un miglior film, l'avrei voluto. Però fa niente. Figlie di Mattiatore lo trovate su Prime Video, se non sbaglio. È stato molto apprezzato, ha diverse candidature. Però io vorrei dire una cosa. Ripeto, cosa sarà? Favolacce, figli, Predatori, volevo nascondermi. Ma secondo voi, ad esempio, in questa categoria della sceneggiatura, poteva starci gli anni più belli? Ma che cosa candi degli anni più belli? Cioè, io voglio proprio fare un discorso di logica. Guardate chi sono i candidati e pensate agli anni più belli. Film mediocre, ragazzi. Mediocre. Punto. Migliore sceneggiatura non originale. Assandira. Lacci. Lasciami andare, lei mi parla ancora, lontano, lontano. Anche questi sono film di un certo spessore. Lacci, che può piacere come no, ha comunque un suo corpo a livello di sceneggiatura. Stessa cosa a Assandira. Lasciami andare, lei mi parla ancora. Magari, ecco, lei mi parla ancora di quello di Avati, che trovate sempre su Now. Ma lì che cazzo stiamo parlando? Dai. Miglior produttore? Vabbè. Favolacci, Predatori, Incredibile storia di zone rose. Miss Marks, volevo nascondermi. Anche qua. Il livello è molto più alto. Migliore attrice protagonista? Vittorio Puccini per il Giotto Legali, Paolo Cortesi per figli, Michele Aramazzotti per gli anni più belli, Sofì Arona per la vita l'antiesè, Albaro Orvacher per l'ACI. Già, se devo essere sincero, secondo me Aramazzotti non si meritava neanche la candidatura, perché non è stata così brava. Cara Grazia che è stata candidata. Miglioratore protagonista? Cosa sarà? Scusate, chi lo assiste io per cosa sarà? Valeria Mastandrea per figli, Pierfrancesco Fabino per l'Amamet, Renato Pozzetto, sono contentissimo per lui, per lei mi parla ancora, e Gio Germano per volevo nascondermi. Qua ci sta. Miglioratore non protagonista. Benedetta Procaroli per 18 regali. Barbara Chichierelli per favolacce. Claudio Girini per l'Amamet. Matilda De Angelis per l'Increibile Storia delle Isole delle Rose, Albaro Orvacher per Magari, anche qui, io sono francamente, sinceramente contento di vedere certi nomi. La Porcaroli non mi è piaciuta in Baby, ma è piaciuta molto in 18 regali. La Chichierelli in favolacce è stata bravissima, la Girini anche in Amamet ha dato una buona interpretazione, e poi la De Angelis, beh, lei è sempre brava. Anche l'Albaro Orvacher per Magari, eh. Miglioratore non protagonista. Gabriel Montesi per favolacce, Lino Musella per favolacce, due addirittura. Giuseppe Cederna per Amamet, Fabrizio Mettivoglio per l'Incredibile Storia delle Isole delle Rose, anche lui è stato bravissimo secondo me lì. E Silvio Orlando per l'Acci, contento anche per Orlando. Miglior fotografia, favolacce, Amamet, le sorelle Macaluso, Miss Marx, padre nostro e volevo nascondermi. Miglior compositore, Nicola Piovani per Amamet, Nicola Contessa per i Predatori, Michela Braga per l'Incredibile Storia delle Isole delle Rose, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, Downtown Boys per Miss Marx, Pivio e Aldo Descalzi per non odiare, Marco Biscarini e Daniele Furnà furlati per Volevo Nascondermi. Quindi, questo è miglior compositore, quindi ci può sicuramente stare. Miglior canzone originale, Gli Anni Più Belli per i film, Gli Anni Più Belli, La Vita Davanti a Sé, Io Sì per La Vita Davanti a Sé, Miles Away per non odiare, Immigrato per Tolo Tolo, questo fa un po' ridere, Invisible per Volevo Nascondermi. Però, ad esempio, hai già due candidature, l'attrice, la miglior canzone, cioè cosa vuoi di più della vita, cioè capito? Cioè, oh, non era un film che poteva competere nelle altre categorie con gli altri, non c'è un cazzo da fare, ve lo sto dimostrando, dicendovi chi sono i candidati. Miglior scenografia, Favolaccia, Amamet, Incredibile Storia delle Rose, Miss Marx, Volevo Nascondermi, Miglior Costumista, come sopra. Amamet, Incredibile Storia delle Rose, Le Sorelle Macaluso, Miss Marx, e Volevo Nascondermi. Miglior truccatore, Amamet, è qua, secondo me, l'Incredibile Storia delle Rose, Le Sorelle Macaluso, Miss Marx, Volevo Nascondermi, Miglior Acconciatore, Favolaccia, Amamet, Le Sorelle Macaluso, Miss Marx, Volevo Nascondermi, Miglior Montatore, Favolaccia, Figli, Amamet, l'increvio storia di zone rose e volevo nascondermi miglior suono favolacce amameth l'increvio storia di zone rose miss marx e volevo nascondermi e la varietà non è molta come vedete migliori effetti visivi amameth l'increvio storia di zone rose miss marx the book of vision e volevo nascondermi miglior documentario fate mi chiamo francesco totti di fascelli regista di h2 audio fin di molto tempo fa che a me piace molto notturno di gianfranco rosi è quasi come c'era Vittorio in tasca punta sacra dello sellinis però ci sta che ci sia anche il documentario di zutotti perché è un personaggio sportivo importante il documentario anche credo lo trovate sopra in video miglior cortore d'entraggio ha già vinto n perché l'ha dato prima e poi c'è il miglior film straniero che è 1917 miserabili jojo rabbit richard jewel sorry we missed you secondo me vince jojo rabbit e poi infine c'è il david giovani 18 regali favolacce gli anni più belli l'increvio storia di zone rose tolo tolo alla fine muccino si incazza tanto ma ha ricevuto tre candidature il suo film basta quante cose cioè il punto è questo manco non avesse ricevuto candidature ne ha ricevute ben tre e io voglio dire ma signor muccino ma perché si deve comportare in questa maniera astiosa non è un bel modo perché lei poi non può permettersi di insultare favolacce dopo che si è arrabbiato perché gli anni più belli non è stato candidato a tante candidature quanto vuole lei cioè bisogna avere anche una certa eleganza nel perdere che poi perdessero tutti così a tre candidature tre non zero tre non mi sembra snobbare il lavoro di un regista dare tre candidature e secondo me se posso proprio essere sincero sono tre di troppo questo film non avrebbe neanche dovuto essere preso in considerazione per una premiazione perché non è un film da premio è un film uguale a cento altri che se ne sono visti ed è uguale alla maggior parte dei film da filmografia di muccino è sempre la stessa roba è sempre la stessa roba quando fai lo stesso film da anni cambiando il titolo e cambiando qualcosa ma sempre in quel modo non puoi neanche pretendere che le persone ti stendano i tappeti rossi bisogna anche a un certo punto guardarsi dentro e dire ma io che mi sento così grande che mi sento così bravo ma lo sono davvero io penso che i premi verranno divisi più o meno equamente tra favolacce ma anche tra volevo nascondermi che è uno dei buoni favoriti quindi poi faremo la live ne parleremo si faranno un po' di pronostici però secondo me è un è un ottimo è un ottima insomma è sono curioso voglio vedere come sarà quindi la cerimonia la seguirò sicuramente saranno ad aprile sono curioso quello senza alcun dubbio per cui vedremo cosa ne sarà e mi dispiace tanto per questa cosa incresciosa che è successo perché poi io non vi ho letto tutti i tweet ma a un certo punto ci è andato anche pesante ha iniziato a insultare le persone nei commenti insomma sei un regista affermato che di fatto al pubblico non dispiace neanche e ti butti via con questo atteggiamento pecoreccio con questo con questo questo piangersi addosso erano candidato tre candidature ti è andato ma cosa volevi volevi la regia bene sai come si fa a prendere la regia Gabriele Muccino ti parlo proprio vis a vis tanto non vedrai mai questo video ma se dovessi vederlo sai come si prende la regia facendo un film con un'ottima regia sai come si prende la candidatura per la migliore sceneggiatura si fa una buonissima sceneggiatura perché ho letto i candidati e non mi sembra che siano candidature rubate è inutile poi andare a vedere non capisco la grandezza di questo film pensando ipotizzo sceneggiatura guarda no la regia cosa sarà c'è capito mi sa di uno questo atteggiamento è quello di uno che fa le pulci fa la punta al cazzo a ogni inquadratura per dire la candidatura qua non ci sta e invece ci stanno tutte quindi mi dispiace mi dispiace però per me questo è un atteggiamento vergognoso vergognoso io proprio questo ecco il comportamento di muccino è esattamente la definizione di cringe vogliamo usare cringe usiamolo con cognizione di causa è cringe perché io pensando a ciò che ha scritto ho avuto un solo pensiero in mente ovvero cazzo come sono contento di non essere io mi sentivo imbarazzato io al posto suo era imbarazzo vicario è questo il cringe è imbarazzo di seconda mano quando una cosa ti fa imbarazzare anche se non ti riguarda direttamente io ero imbarazzato si può dire che ho cringiato leggendo il tweet di muccino per cui io voglio sapere cosa ne pensate voi secondo me è una situazione oltre che paradossale abbastanza triste quindi sono contento delle candidature favolacce volevo nascondermi altri film che abbiamo visto forse un po' troppo candidato a Mamet e troppo poco candidato ai Predatori per me i Predatori si meritava una candidatura praticamente dappertutto però non si può avere tuttora la vita ha comunque vinto un premio a Venezia non è che sia un film che è rimasto a bocca asciutta però un po' più di riconoscimento magari Davide me lo sarei aspettato però non importa quindi io vi abbraccio grazie a tutti tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo Mui Vlog ciao a tutti